segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te implicazioni sono tanti augusto menzolini e putin minaccia attacca e questo però produce una un ulteriore no slittamento di alcuni paesi come finlandia e svezia che dicono che guardano all'occidente che guardano alla nato che guardano alle democrazie e cosa può voler dire questa no un nuovo veramente un nuovo ordine mondiale un nuovo mondo diviso tra due blocchi io penso una cosa che questa vicenda qui dimostra ancora una volta che putin ha sbagliato i calcoli cioè era almeno diciamo verbalmente ufficialmente era intervenuto in ucraina per non perché aveva paura che entrasse nella nato adesso si ritrova due paesi che non erano nella nato che chiedono di entrare nella nato non credo che da questo punto di vista sia un grande successo un altro elemento su cui io diciamo rifletterei è che questa guerra ha dimostrato che l'apparato militare russo non è così efficiente efficace come uno può immaginare perché nel senso cioè adesso non so c'è stato pure la fondamento dell'incrociatore russo del Moskova in lì davanti nel Mar Nero quindi già ti dimostra che di fatto lì ci sono diciamo ha una grande fama ma in realtà poi nei fatti anche diciamo per come si è più sta avvenendo devo dire che i camporini sono settimane che lo dice questo ecco ecco la terza cosa che io dico che secondo me è interessante è il fatto che riguarda noi come europei non è che stiamo dando granché un'immagine diciamo di essere quella superpotenza che potremmo essere nella realtà tu immagini noi credo che spediamo circa 230 miliardi di euro mettendo insieme tutti i 27 paesi dell'unione europea in armamenti e quindi di fatto quattro volte io credo quello che spende la russia eppure non siamo capaci di dare delle garanzie a due paesi che sono già nella nell'unione europea la finlandia addirittura è nell'area schengen dal 2001 e c'è diciamo credo che sia l'articolo 42 del trattato dell'unione che prevede diciamo un intervento diciamo di solidarietà da parte degli altri paesi europei qualora ci fossero delle questioni quindi è una cosa è un monito anche a noi noi ancora adesso come unione europea visto che non abbiamo una soggettività sia dal punto di vista di un esercito comune sia dal punto di vista diciamo di una politica estera comune non riusciamo a dare quelle garanzie che potremmo dare al posto della nato e probabilmente avremo meno problemi e su queste sono tutti elementi che fanno un po diciamo creano dei o danno la possibilità di farci degli interrogativi noi in questa vicenda qui indipendentemente da tutto avremmo avuto una grande occasione per crescere proprio parlo come identità europea stiamo perdendo l'occasione dici tu stiamo perdendo l'occasione immagina quello che è successo ieri abbiamo hai visto hai visto quello che ha fatto la 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 francia dice una cosa la germania questo rapporto con zeleschi ma contemporaneamente sempre nell'unione europea probabilmente la polonia più sulle posizioni dell'inghilterra degli stati uniti sono tutte cose che ci dovrebbero portare a maggior